La corsa all'economia dell'idrogeno è aperta e nel prossimo decennio la produzione dovrebbe diventare più economica e lo stoccaggio e l'uso molto più semplici. Ma non tutti sono convinti che l'idrogeno verde sia il carburante del futuro. L'idrogeno pulito è pubblicizzato come il futuro carburante dell'Unione Europea ma anche del resto del mondo promettendo di fornire un'abbondanza di energia a emissioni zero entro il 2030. Il suo obiettivo è di alimentare veicoli, veicoli merci, produzioni industriali e di scaldamento domestico ma sono in molti ad essere scettici su queste sue virtù quasi perfette. Oggi vi parlo della difficoltà dei pregi dell'idrogeno come energia pulita del futuro e se io ci investirei oppure no e poi ti dico degli etf che potrebbero essere usati per andare a investire in questo settore. Ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio. Come sempre sono Pasquale il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto nonché educatore finanziario AIF e autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi, libro del quale puoi acquistare appunto tramite il link qui sotto in descrizione. Da cosa proviene questo scetticismo sull'idrogeno? Ricordo che questo video non è un'analisi tecnica approfondita sull'investimento all'idrogeno ma mi sono documentato su testi e poi ho cercato di riportare qui e di riassumere per conto mio questi concetti. Io non sono preparato al 100% di mio su questa tecnologia e per cui mi sento la persona meno latta a dare giudizi positivi o negativi su questa tecnologia. Per cui non prendete assolutamente questo contenuto come un consiglio ad investire o a non investire in questo prodotto ma come semplici considerazioni a scopo didattico relativi ai miei studi personali. Ho sanato da molti e deriso da altri come fallimentare. La Commissione europea stima che saranno necessari fra i 180 e 470 miliardi di euro prima che l'idrogeno verde possa costituire il 13-14% del mix energetico dell'UE nel 2050. Ma le cose si stanno muovendo velocemente per il lancio di nuovi progetti dimostrativi sull'idrogeno ogni giorno. I paesi dell'Unione europea stanno anche elaborando strategie per costruire i mercati dell'idrogeno che sia verde. Ci sono anche alcune start-up e ricercatori che stanno lavorando lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno affinché si possa trovare una soluzione. Anche gli Stati Uniti tra l'altro hanno lanciato un piano per ridurre il costo di un chilogrammo di idrogeno verde a un dollaro entro il 2030 mentre la Germania sta collaborando con altre nazioni come Australia e Namibia per chiare catene complete di approvvigionamento globale di idrogeno. Il problema è che gli elettrolizzatori necessari per dividere l'acqua in ossigeno e in idrogeno sono pochi e l'elettricità rinnovabile necessaria per alimentarli non è ancora abbastanza abbondante per rendere l'idrogeno completamente verde. Negli ultimi 20 anni sono stati annunciati quasi 450 progetti dimostrativi di idrogeno a basse emissioni di carbonio e l'elenco continua a crescere giorno dopo giorno almeno secondo il database dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Tuttavia le tecnologie per la produzione di idrogeno verde sono ancora nascenti se così si può dire e l'intero processo è ancora molto ma molto costoso. Oggi l'idrogeno verde non può competere con alti fonti di energia o con l'idrogeno grigio prodotto dai combustibili fossili. In molte strategie nazionali è previsto un passaggio intermedio di utilizzo del metano per generare appunto idrogeno ma catturando il carbonio e producendo il cosiddetto idrogeno blu. Questa è vista come un'alternativa più pulita della sua controparte grigia e un modo per sviluppare applicazioni aiutarle a costruire i mercati dell'idrogeno che adesso sono praticamente inesistenti. Mentre tecnicamente vengono catturate le emissioni di carbonio un recente studio condotto dagli scienziati della Università Cornell e Stanford afferma che l'idrogeno blu potrebbe essere fino al 20 per cento peggiore per l'ambiente rispetto alla sua combustione diretta di combustibili normali e del metano. Inoltre anche all'interno dell'industria specialistica ci sono forti tensioni e disaccordi su questi concetti. All'esempio ad agosto del 2021 Chris Jackson presidente della UK Hydrogen Full Cell Association un importante gruppo industriale si è dimesso un giorno prima che il paese rivelasse la propria strategia sull'idrogeno adducendo preoccupazioni per la dipendenza del piano all'idrogeno blu e che ha definito come una costosa distrazione. Jackson che è il CEO specialista dell'energia sostenibile Protium era stato eletto alla presidenza solo alla fine del giugno del 2021 quindi pochi mesi prima. I promotori dell'idrogeno blu affermano che non è la risposta a lungo termine ma piuttosto un trampolino di lancio per la nuova tecnologia verde. L'idrogeno verde è l'obiettivo finale e il ruolo svolto dall'idrogeno blu dipende molto dalla capacità dell'industria di fornire dei risultati. Altri dubbi sull'idrogeno vengono portati dai suoi detettori adducendo il fatto che non è la prima volta che questo viene definito come il carburante del futuro. Per esempio non molti sanno che ha alimentato il primo motore a combustione interna nel 1806 non lo sapevo neanche io prima di preparare sto video. Nel 1970 il termine dell'economia di idrogeno è stato coniato dopo che un rapporto di un accademico statunitense Lawrence Jones ha avviato il clamore dell'idrogeno nel paese che alla fine si è estinto così da un momento all'altro negli anni 80. Certo le tecnologie ora sono molto diverse e molto più sofisticate che in passato. Oggi l'idrogeno prodotto da combustibili fossili senza catturare il carbonio viene utilizzato principalmente nelle industrie chimiche e di raffinazione. È responsabile di 830 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno equivalenti alle emissioni annuali del Regno Unito e all'Indonesia messe insieme. Sebbene l'introduzione dell'idrogeno verde eviterà questo inquinamento rimangono molti vecchi problemi in particolare come conservarli in modo sicuro. Sebbene meno tossico e si disperda più facilmente del gas naturale l'idrogeno ha un'ampia gamma di concentrazioni infiammabili dell'aria. È un'energia di accensione inferiore rispetto alla benzina, al gas o comunque ad alti idrocarburi. Il che significa che può accendersi, può esplodere molto più facilmente. Attualmente lo stoccaggio dell'idrogeno richiede pressioni estremamente elevate ed è quindi troppo costoso e inefficiente per un uso diffuso nei voicoli da locomozione. Nonostante i progressi i gruppi ambientalisti rimangono scettici sul potenziale complessivo dell'idrogeno definendolo, come dicevo prima, una pericolosa distrazione da alternative migliori come l'elettrificazione diretta. Il boost degli investimenti su questa tecnologia e anche il pensiero su di esse è arrivato dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Lo sviluppo di alternative per il gas naturale lusso è passato da una parte della politica climatica a una priorità in tempo di guerra. In questo sforzo il potenziale per l'uso dell'idrogeno viene esaminato ancora più intensamente. Sì è vero che l'idrogeno può essere bruciato producendo solo vapore acqueo anziché prodotti di carbonio, sebbene la maggior parte delle forme attuali di produzione del carburante appunto richieda l'utilizzo di processi di emissione di carbonio. Sulla base di gran parte del materiale assunto per il dibattito pubblico ha senso una transizione dell'economia verso l'idrogeno, questo è quello che si dice. Sfortunatamente l'idrogeno è anche altamente reattivo come dicevo prima e può infiltrarsi tra le molecole di quasi tutti i contenitori attualmente in circolazione. Fa marcire molti tipi di acciaio ad alte temperature e a pressioni in un processo chiamato decarburazione o attacco dell'idrogeno. A temperatura e pressione ambiente l'idrogeno può creare l'infragilimento, una diversa forma di potrefazione degli acciai o di altri metalli per cui è particolarmente difficile stoccarlo. Può inoltre accumularsi in una miscela esplosiva con l'aria in molti spazi chiusi. Gli accumuli di sacche di idrogeno da accumulatori e generatori di ossigeno sui sottomarini sembrano aver portato addirittura ad esplosioni. Per più recenti un sottomarino della marina argentina è affondato nel novembre del 2017 dopo un'esplosione che si pensa potrebbe essere il risultato di un accumulo di gas di idrogeno all'interno. Naturalmente come dicevo anche prima l'idrogeno è di uso comune nei processi chimici e nella raffinazione dei combustibili fossili. Questi impianti utilizzano condotte di idrogeno dedicate, prodotte, saldate e ispezionate tenendo conto delle sue proprietà fisiche. Ma una cosa è avere tutto in aree industriali ben controllate e in altra è far passare queste lunghe tubazioni in aree urbane a densa popolazione o lasciarle su un'autovettura. Attualmente uno dei materiali più sicuri utilizzati per la manipolazione dell'idrogeno sono gli acciai inossidabili austentici. Queste leghe contengono proporzioni molto elevate di nichel e cromo che se acquistate come prodotto di massa creeranno seri problemi di approvvigionamento per una società in transizione verso l'idrogeno e questo potrebbe far saltare i costi delle materie prime di queste due materie prime verso le stelle. I dispositivi che utilizzano combustibile e idrogeno richiedono tecnologie di saldatura molto esigenti che spesso necessitano di gas inerti come l'argon per garantire l'integrità della saldatura. Nonostante questo gas l'argon sia ampiamente utilizzato per queste e altre applicazioni è difficile e costoso da produrre anche nella scala in cui viene utilizzato oggi figuriamoci poi quando diventerebbe di larga scala. Fatta questa opportuna pappardella è chiaro che chi abbia fiducia e speranza in questo mercato ci sia ce ne sono molti voglia trovare modi per investirci. Io sinceramente non lo trovo un segmento adatto alla mia strategia di investimento ma non per tutti potrebbe essere così diciamo per te magari che guardi questo video potrebbe essere il modo migliore per investire i propri soldi. Per chi volesse investire in questo settore ma non andando a fare dello stock picking che reputo io estremamente rischioso come potrebbe fare? Beh ci sono naturalmente gli etf e io ne ho prelevati due che a mio parere potrebbero aiutarci ad andare a posizionarci su questa tecnologia. Vi vado poi a lasciare i ticker e gli asin di entrambi nella descrizione del video e anche nel primo commento quello pinnato del video stesso. Partiamo dal primo etf che è l'LNG Legal and General Hydrogen Economy che segue appunto un indice che si chiama Solactive Hydrogen Economy. Questo replica le performance di aziende internazionali operanti nell'industria dell'idrogeno. È un fondo abbastanza liquido che ha circa 520 milioni di asset under management con lo 0,49% di terra e una politica di dividendi ed accumulazione. Il suo ticker è HTWO. Etf punta a offrire un'esposizione all'intera catena del valore dell'idrogeno di cui fanno parte produttori di idrogeno, produttori di celle a combustibile, i fornitori di servizi di mobilità dell'idrogeno, i fornitori di componentistica per le celle a combustione e aziende leader nel settore industriale del servizio pubblico e anche altri attori della supply chain di questo segmento. Le partecipazioni all'interno di questo etf sono 34 e le prime 10 coprono quasi il 42% della ponderazione. Gli Stati Uniti sono la nazione più rappresentata con un 24,7% poi l'Unione Unita con quasi un 15%, poi Giappone, Germania e così via tutto il resto delle nazioni. In termini settoriali abbiamo il 41,5% nell'industriale, poi le materie prime con un 27% e via via poi tutto il resto con piccole quote. Il secondo etf invece segue un indice diverso e chi lo produce è Vanek. Vanek va sempre a spulciare degli indici particolari. L'etf è il Vanek Hydrogen Economy con il ticker HDRO che segue appunto un indice diverso che si chiama MVIS Global Hydrogen Economy ESG e replica le più grandi e liquide aziende globali che operano nell'economia dell'idrogeno. I titoli azione inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG per cui ambientali, sociali e di corporate governance. Se queste società estremamente liquide nel settore dell'idrogeno in base alla capitalizzazione di mercato è il volume di scambi. I titoli in cui si investe devono ottenere almeno il 50% dei propri ricavi dall'economia dell'idrogeno salvo alcune possibili eccezioni. Esclude da questo indice le società che violano gravemente i principi del Global Compact dell'ONU o ottengono redditi d'armi controverse confermati dai dati ISS. Esclude anche società che ottengono più del 5% delle loro entrate dei settori che includono ma non si limitano a carbone termico, combustibili fossili, sabbie bituminose, energia nucleare, armi da fuoco civili, attestatori militari e tabacco. È un ETF molto piccolo con 94 milioni di asset under management e un TER dello 0,55% e una politica anche questo di rendi che è ad accumulazione. Qui si tratta di un ETF ancora meno diversificato con solo 25 posizioni delle quali le prime 10 vanno a occupare addirittura più dell'80% della ponderazione. Gli Stati Uniti coprono almeno il 33% di questa ponderazione seguiti dal Degno Unito con un 20,5%, la Francia con un 12% e via via le altre nazioni. Esposto con quasi un 60% al settore industriale e quasi un 39% al settore delle materie prime. Spero che questo contenuto pappardella investimento sia stato di tuo gradimento se così fosse ti chiedo per qualsiasi di lasciare un bel pollice in su per l'argomento YouTube ma anche per me per far capire che apprezzi i miei contenuti e soprattutto anche un commento così per sapere cosa ne pensi. Nella sezione dei commenti lasciami anche spunti di riflessione da condividere con me e con tutti alla community e se poi sei nuovo sul canale se non vuoi perderti nessun contenuto successivo iscriviti e clicca la campanella delle notifiche. Ogni nuovo video ci sarà notificato. Se vuoi prendere un appuntamento con me per una consulenza di educazione finanziaria trovi il link qui sotto in descrizione. Bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo a un nuovissimo video. Ciao!